L'odevole iniziativa promossa dall'Associazione Ultimi a Villa di Briano nella villa confiscata al boss Jovine, tra i partecipanti c'è anche Jimmy Cangiano candidato alla Camera nel collegio di Aversa con Fratelli d'Italia. Cangiano un momento importante, guai abbassare la guardia sul tema della legalità. Assolutamente, lo Stato in questi anni ha dimostrato una presenza costante sul territorio negli ultimi anni grazie anche ai lavori di tanti magistrati, è stato da un segnale forte alla criminalità. Per oggi la guardia non dobbiamo abbassarla ma c'è la necessità, c'è la volontà anche da parte nostra di immaginare delle soluzioni che possono portare a questa terra azioni concrete di sviluppo perché senza sviluppo, senza occupazioni, senza salute c'è il rischio di poter tornare come qualche anno fa. Tra gli ospiti anche il dottore Catello Maresca che ai nostri microfoni ha detto che è qui presente anche per dare sostegno ai candidati di Fratelli d'Italia a lei, a Marco Cerrito. Questo mi fa onore, il dottore Maresca è stato uno dei simboli più importanti della lotta alla criminalità soprattutto in questo territorio. La sua presenza oggi al nostro fianco a prescindere dalle posizioni partitiche è fondamentale e ci dà forza e coraggio per continuare la nostra battaglia contro la Camorra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.